c'è il Don. Eccolo lì caro Don Antonio come stai? Torno anch'io sull'adoltezza torno sull'adoltezza. Intanto come state? Bene. Molto bene. Bene. Il trio, c'è il trio tutto intero, tutti sani, tutti bene. Ci siamo tutti. Tosto. Un bacione a tutti e tre. Ecco la frase. La dolcezza educa più della collera. A tutti i genitori la dolcezza educa più della collera. Ciao 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 ciao.